Un grave incidente stradale nel distretto di Narsaraj, nella provincia dell'Elmand, sull'autostrada che collega la città di Lashkarga alla città di Kandar. Una piccola automobile diretta da un matrimonio si è schiantata con un carro di bestiame. Abbiamo quindi ricevuto 13 pazienti con lesioni multiple, due purtroppo sono arrivati già morti in ospedale, tre adulti sono stati stabilizzati e riferiti all'ospedale provinciale, tre bambini con lesioni minori che sono stati riferiti anche loro all'ospedale provinciale, infine cinque pazienti adulti sono stati ammessi. I pazienti presentavano traumi contundenti addominali e toracici, fratture spinali, lesioni cerebrali unite a diverse contusioni e fratture degli arti. Tre hanno subito delle operazioni molto delicate dovute a demorragie interne. un elevato numero di pazienti arrivano nel nostro ospedale in seguito ad incidenti stradali e che presentano politraumi o lesioni cerebrali. Oltre al trauma civile il nostro ospedale continua a rimanere anche molto attivo con le ferite d'arma. Solo nel mese di gennaio 2024 abbiamo ricevuto 50 pazienti, dei quali 18 arrivati in seguito a ferite d'arma da fuoco, 25 d'arma da taglio e 7 ferite causate da esplosioni di ordigni improvvisati. Grazie. 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 Grazie.